Dopo Nonno Hollywood sei protagonista con Baciami adesso, una canzone più leggera rispetto ai tuoi classici testi? Ma più leggera no, nel senso che è un altro tipo di argomento, sicuramente è diversa da Nonno Hollywood ma mi auguro di non scriverne più perché vorrebbe dire che mi dovrebbe morire un altro parente e quindi spererei di no. È una canzone d'amore, di passione, una canzone che parla di sentimenti comunque e forse è una canzone che può riguardare magari più persone e non fa piangere. L'unica differenza trovo questa cosa qua. Come cover ti regalerò una rosa di Cristicchi. Hai mai avuto paura di un confronto? No, perché mi piace l'idea di fare una cosa insieme e la trovo un orgoglio che mi porto qua a Sanremo e il fatto che l'ho abbia accettato, abbia scelto di venire e sono felice. Il 14 febbraio esce Nigio, quindi il tuo nuovo album. Che cose ci dobbiamo aspettare? Ma è un album diverso dal solito, nel senso che sono otto stanze, sono otto canzoni completamente diverse da loro. Baciami adesso è l'unica canzone, tra virgolette, romantica dell'album. Ci sono varie storie, c'è un duetto con Panariello, dove lui recita un monologo e sono molto contento. Cosa ne pensi di questo festival di Sanremo e di tutte le polemiche che sono sorte attorno? Le polemiche ci sono sempre. Alla fine io penso, sinceramente penso che ho quattro giorni per poter cantare davanti a un pubblico enorme e quindi penso a quello. Penso a farmi quei tre minuti bene e basta. Il resto non mi riguarda nemmeno perché fondamentalmente fra una settimana è finito tutto. Quello che rimane poi sono le canzoni.